Giovedì ci sarà l'arrivo di De Luca ad Agropoli in occasione dell'inaugurazione della nuova caserva della Guardia di Finanza. In atto l'organizzazione di una protesta pacifica per contestare quello che De Luca un po' ha promesso negli anni per quanto riguarda l'ospedale Cive di Agropoli e non ha mantenuto. Secondo lei è giusto o no manifestare nei confronti del governatore della campagna? Secondo me non è giusto, è giustissimo. Dopo tanti anni di promesse, io che ho una certa età ricordo che questo ospedale ha origini forse negli anni 50 e sembrerebbe che non è cambiato niente perché si tratta di una struttura praticamente, come si dice, nel deserto, è un cattedrale nel deserto, quindi è giusto che si faccia in maniera sempre pacifica però perché è giusto che sia così e che io credo tra l'altro di partecipare. In questa occasione secondo me, mio modesto parere, assolutamente non è giusto perché c'è un'inaugurazione che non bisogna né turbare né guastare con una protesta di piazza. Per l'ospedale di Agropoli io sono stato sempre d'accordo a manifestare, a lottare, da sempre ho fatto anche la grande manifestazione che ho fatto inizialmente, ero presente, ho occupato la stazione anche io, però dopo è andato tutto morendo. È vero quello che si dice sui social che non c'è stato tanto interesse ed è vero che De Luca ha fatto una promessa non mantenuta, mai mantenuta per quello che ha detto qui in piazza e quindi De Luca sicuramente è da condannare in questo senso, però questo è un momento sbagliato nel luogo sbagliato per Giunta perché l'apertura della nuova caserma della Guardia di Finanza non c'entra assolutamente nulla con la contestazione a De Luca o al sindaco o alle figure politiche che stanno dentro a questa cosa, ma non bisogna macchiare un momento di festa, ecco voglio dire, per l'inaugurazione di una nuova caserma della finanza con una cosa sicuramente negativa della politica in generale, se uno si vuole mettere in mostra va anche lì, magari viene ripreso anche da qualche tv e quindi finiremo anche per quest'altra bella cosa sulle tv nazionali, qua sicuramente, però è sbagliatissimo in quanto per fare questo tipo di manifestazione e di protesta bisogna scegliere i momenti opportuni e coinvolgere più gente, non andare lì, perché addirittura se poi si va lì per andare a fare gli urlatori, peggio ancora. In tanti dicono non è giusto, in tanti dicono è giusto, secondo te che sei una giovane ragazza, quanto è importante manifestare se è giusto farlo? È importante, sono d'accordo con la protesta e la manifestazione. Secondo me è giusto che De Luca venga qui all'inaugurazione e che se ci sta qualche contestazione è giusto che ci sia, ma contestazione civica, naturale, ma senza eccetera. È giustissima la manifestazione contro De Luca perché il paese è stato distrutto dalle promesse non mantenute dal governatore della Campania e io mi auguro che alle prossime elezioni scompaia proprio questo presidente De Luca perché non è giusto ed è indegno lasciare un paese come Agropoli, che è la capitale del Cilento, a braccia d'estate un distretto di 380.000 persone senza un ospedale. Ecco, secondo te è giusto manifestare oppure no in questa occasione? Allora, è giusto manifestare ma non in questa occasione, anche perché la Guardia di Finanza e soprattutto l'inaugurazione della sua caserma è un soggetto terzo, quindi in realtà si protesta contro che cosa? Contro poi le fiamme gialle, non contro il governatore. È validissimo invece fare una sorta di protesta da qualche altra parte, ovviamente una protesta parallela, una manifestazione parallela, forse vicino all'ospedale oppure in altro luogo, ma lì secondo me forse è inopportuna. Ma se tu avessi la possibilità di fare una domanda, tu per tu, così al governatore della Campania De Luca, che cos'è che gli chiederesti?